Buonasera a tutti, buon sabato e bentornati al TG di AC Milan Inside. Parliamo del nostro Milan futuro e dunque del calendario che lo aspetta. La prima giornata infatti si giocherà tra il 24 e il 25 agosto. Ci sono news per quanto riguarda il mercato in uscita del nostro Milan. Nonostante Forlani abbia ribadito il fatto che il Milan non ha necessità di vendere, sembra che il Lione sia interessato a Musa e dunque quest'ultimo se si dovesse trovare un accordo probabilmente potrebbe partire. Come già detto tempo fa il Newcastle è interessato a Ciao. Gli inglesi infatti non mollano la presa nei confronti del difensore rosso-nero che però vorrebbero prenderlo sotto i 40 milioni. Nel frattempo il Milan sta continuando la trattativa nei confronti di Pavlovich. Dopo giorni di dialoghi infatti sembra che siano 3 milioni a dividere le due squadre visto che il Milan ha messo sul piatto 22 milioni e il Salisburgo ne richiede 25. Vi ricordiamo l'appuntamento stasera a mezzanotte a Sport Italia con l'amichevole dei nostri ragazzi che li vedrà contro il Manchester City in America. Queste sono tutte le news di oggi ma io come al solito vi invito a venire a seguire su tutti i nostri social.